L'unico motivo per cui sei ancora in vita è che trovo la tua stupidità lievemente divertente. Davvero? Allora perché questo brillocco gli è caduto dalla calzamaglia la sera in cui l'ho catturato? Guardalo. Ottimo taglio, ma brillantezza modesta. Ammetti lo feticcio hai fatto tardi. Il tuo amico sta per sposarsi. Il che significa? Ciao, ciao cane. Ma tranquillo. Se Superman non ha più spazio per te nella sua vita, sono certo che potrai adattarti nella sala della giustizia. E così tu hai due penne? Mi permetti di vederli? Avanti ragazzino, arrenditi. Con Timex non hai via di scappo. Con effetto immediato tutti i suoi studenti sono sospesi per una settimana. Come rifiutare l'opportunità di rivoluzionare l'industria energetica? Flabber. Molto interessante, Philip. Che peccato che sia così instabile. Stavo appunto dando un'occhiata alla formula. Una miscela pericolosa. E ho va a dammi quella cauta, così posso compiaceve i miei cudelli padroni. Senti bello, non sono tuo padre, certo. E probabilmente ti sembrerà una cosa un po' strana. Che il tuo vicino esca con tua madre, ma così stanno le cose. Vieni qui. Anche tu mi stai sulle scatole. Ma sposerò lo stesso a tua madre. E se dipendessi da me, partiresti per quella scuola seduta a stante. Questo non è possibile. No, non è possibile, sorelle. Stupido anello. Dov'è la tua energia? Dimmi dove la nascondi? Il potere dell'anello di stella è veramente grande, ma... Ma un oggetto così piccolo non può certo contenere la forza della fiamma del drago. Dovevamo capirlo subito che era... Fatita! Se penso a tutta la fatica che abbiamo fatto per possedere questo anello, mi innervosisco. Perché la gente ha rinunciato a sperare. E dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga. I nostri erano nullità e noi eravamo nullità. E quando ti ho conosciuto non facevi che succhiarti il pollice e fare un sacco di cacca. Ben trovata, Asha. Sono felice di rivederti. Com'era la storia del tenersi stretti i propri sogni? Racconta a forza. Oh, aspetta. A me non interessa. Ciao, Star. Ora giochiamo. Voglio che ora lei gridi per me. Se non volete lasciarci le penne tue e il tuo parassita lì, cercate di muovervi! Ma quella è la mia scarpezza! Non andrete da nessuna parte! Dammi la mano di me, Dacassim, oppure tuo figlio morirà. Fate pure, andatevene e diventate grandi. Ma vi avverto, una volta partiti non potrete più tornare qui. Mai più! È un inizio. Potrei convertire il seme interrato in una segreta. Oh, che noia! È arrivato il momento del botto! Benvenuto nella nostra felice famiglia di correntisti! No, voglio che non mi fai mai! Ah, forse ho detto troppo. Sono stufo di chi mi rompe le palle. Figurati. Non fai niente. Abbiamo tutto il tempo. Sì! Ho una trovata geniale, un torneo di bullying. Symphony! È stato un piacere qualunque cosa per la mia principessa. Finalmente l'anello è nostro. Possiamo andare. Valoroso guerriero. Combatti nulla allora. E che questa ora sia! Le vuole sembrare... No, no, va bene, va bene. Su, fammi vedere. Naturalmente so che lei mi vede, Lady Clayton. Proprio non capisci. Bene, lei ha dato di volta il cervello. Vedo che avete dimenticato cos'era la vita prima che arrivasse Cassino. Allora... Cheippo!